Musica Bella a tutti ragazzi, bentornati nel Dark Channel Io sono DarkNuci e bentornati in questo nuovo video qui su Minecraft Exit Allora ragazzi, nello scorso video mi avete commentato Dicendo che posso dare anche i nomi allo zaini Basta che premo Shift e tasto destro Perché non va? Perché? Devo tenere premuto Shift E poi col tasto destro E posso scrivere Ma perché non va? Boh Sto premendo il tasto destro, strano Vabbè, non si sa perché Poi male che va mi dite se è cambiato qualcosa Poi, per quanto riguarda i Chocobo Mi avete detto che bisogna trovare delle rape in giro Che io penso che ho capito quali rape sono E funziona poi come il cavallo Che dobbiamo aspettare che escono i cuoricini Ed è addestrato Quindi, adesso Vabbè, ci prendiamo anche una crafting table Così dopo, male che va Ci può servire Adesso proporrei di andare avanti in questa zona Vai Prima abbiamo conquistato questa zona Adesso cerchiamo di fare così Il materiale di costruzione qua deve stare Perfetto Ora vediamo se ci sta qualcosa dietro a questo coso Oltre al pezzo di legno No E qui dobbiamo cercare di arrivare da questa parte Penso che faremo la stessa tecnica che abbiamo usato lì Vabbè A parte quelli con le frecce Poi per il resto Ai Oh Da dove è passato? Oh Ma Da dove è passato il ragno? Vabbè Poi questo Aspetta eh Ma tu veramente Devi rompere le scatole Ogni volta eh Allora Vediamo che ci sta da questa parte Allora Ma non ce la fanno a non rompermi le scatole questi? Eh? Ma vai via Ma Vai via Perfetto Ora Allora Vediamo un attimo qua Finiamo di rompere tutto Perfetto Allora Quello era un Ah un raro zombie Perfetto Vai Vieni qua Perfetto Eh bravissimi Pam 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 Anche te Vediamo che ha droppato Lo zombie raro Ho visto che ha droppato un'arma fighissima Che figata Che cos'è? Diamond Che spettacolo Mi ha droppato quest'arma strana Aspettate eh Dopo lo andiamo a provare Perché adesso voglio fare così Devo arrivare qua Per chiudere il passaggio Poi facciamo fuori questo Ok Qui dovrebbe essere chiuso il passaggio Perfetto E poi Arriviamo qui sopra E chiudiamo il passaggio Così Ah no cacchio Qui continua da sotto Ma noi basta che facciamo così E non dovrebbe venire più nessuno Perfetto Quindi Abbiamo Questa parte Sempre io rompo tutto quanto Perché così riusciamo A colpire i nemici Se sono vicini Però a quanto pare Qui non c'è nessuno Ma io voglio sapere Che è quella cosa che c'ho addosso Questa Boh Ah Water Braiding Che cazzo significa Boh Allora Torce Oh 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 Nemici strani Nemici strani Pericolo 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 Rompi 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 Eh Leva il cibo Che adesso non serve Perfetto Ora Mangiamo un secondo Perfetto Ed ora Colpiamo questi tizi qua Olè Vai Ottimo Vabbè questi qui non sono molto forti Alla fine Solamente devo farmi Forse più torce Vorrei provare Questa lancia qua Come funziona Ah eh Non è tutta questa potenza Ah eccoli là Dall'altra parte Che sparano Uh Liscio Aspettate Vai 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 Spara 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 Brutto Stronzico Olè Perfetto Adesso metto Un po' di torce qua Perfetto Così Poi Andiamo da questa parte Voilà Qua Chiudiamo E finiamo di vedere Qua in mezzo Cosa ci sta Perfetto Così Allora vediamo cosa è Poison essence Darkness essence Water essence Vabbè in questo qua ci mettiamo tutte le cose che troviamo Tipo questo 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 E questo Poi Qui Eh mi sta pure finendo l'armatura Ah qua è pieno Allora dobbiamo buttare questo E questo Queste cose sono da buttare Questa vabbè si può unire Il ferro già ce l'avevo Le osse già ce l'ho Questo già ce l'ho E non vanno qua E così Poi Prendiamo questo Perfetto Perfetto E mettiamo qua Mentre Questo Questo E questo Si può buttare Invece queste due servono Perfetto Magari ci conviene fare un po' di torce Quindi prendiamo così Abbiamo due stick Sì E del carbone Ottimo Facciamo così Et voilà Solo otto frecce No Che frecce Di Facciamo Uno due Facciamo sei No Sette E otto Perfetto Così ci facciamo almeno un bel po' di Così Perfetto Ole Ora che abbiamo 42 Stiamo messi bene Perfetto Quindi Ora facciamo così E possiamo andare avanti Allora Questa parte Penso che tutti questi piani Li abbiamo Tra virgolette Conquistati A parte qui Che ci vanno Delle torce Perfetto Poi Andiamo avanti Da questa parte E vediamo Cosa ci sta da quella parte Se scavo Non ci sono altre stanze Ah C'è l'uscita Per fuori Perfetto Quindi in teoria Qui neanche Dovrebbe continuare Vediamo No Quindi Perfetto Ora Possiamo anche Decidere se salire su O andare giù Cosa mi conviene Fare di più Boh 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 Allora Se vado giù Forse E piuttosto andare giù Che su Mettiamo a posto Rompiamo di qua E andiamo Al piano di sopra Ok Qui è strano Che non sto trovando nessuno Oddio quanta gente Devo fare una cosa Intelligente adesso Ok Allora Una volta che siamo chiusi così Ma come fanno Ah Ma sono pure intelligenti Che sanno saltare Facciamo così Poi Così Così Perfetto Poi ci mettiamo qua Così E Li facciamo fuori Perfetto Così Ottimo Questi qua Se li sparo Vengono da me Se li colpisco Magari Aia Oddio Che cos'è Wackness Ma come fanno Oddio Aia Dolore 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 Qua dietro Che ci sta Speriamo niente Ottimo Così posso Allungare la mia zona Chiudendo Anche qui sopra Perfetto Ok E ora devo riuscire a picchiare questi tizi Ehi Venite qua Vai Vai Una cesta Una cesta lì sopra Dove Andarla a prendere Assolutamente Ok Fuori uno E due Ottimo Ottimo Facciamo così Un secondo Prendiamo l'esperienza E magari Facciamo così Ok Quindi se io rompo questo Eppure quello sopra Dovrei riuscire a prendere la cesta Fotti 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 Senza guardare Uh Altra cesta di là Ma se io adesso faccio così Rompo di qua Salgo Trovo l'enderman Oddio quanta gente Quanta gente Fammi entrare in una casetta Fammi buccare in una casetta Oh Oddio 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 Allora 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 Mamma mia quanta gente Allora Copper Tin Gold Alluminio Non so sinceramente A cosa servono Però Noi Prendiamo tutto Perfetto Ora devo recuperare Un po' di vita Così Perfetto Olè Uh Quanta gente Venite qua Tata Muori Vai Oddio Oddio Quello che cacchio è La mia Si è pittato la cosa Oh Stronzo Si è pittato Si è pittato la mia La mia Io me la devo riprendere Aia 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 Uff Fregati Tu la mia Cosa Non te la prendi Brutto Stronzico Che non sei altro Muori Muori Vieni qua Sto stronzo Uh Ma morite tutti Ma morite tutti Ah ma quello li cura No 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 Il mio arco Oh cacchio Ma questo si frega la roba Vedete che faccio Me ne vado di qua E li fotto Così mi prendo Questo Che cos'è Scroll of escape Che cacchio Dove sei Ma quello mi fotte la roba Quindi in teoria Dove far fuori quello Dov'è Allora Facciamo così Allora Ehm Come posso fare Ma non è che posso uscire E spadarli tutti Facciamo così Usiamo una tecnica intelligente Non li facciamo passare Ci mettiamo a noi Vai 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 Sida Mentre Sida Ehm 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 Dolore No 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 Dolore Vai via Vai via 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 No, 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 non voglio crepare Non voglio crepare Oddio, oddio santo Non voglio crepare Ho detto Oh, sti stronzi Di qua che ci sta Che ci sta Oddio santo Quindi ora ci sarebbe l'uscita del castello Ma morite tutti No, spada, 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 spada Vieni qua Spada Ehi Su, spada mia Carica Che fuga Mamma mia ragazzi Vabbè, allora Nel prossimo episodio sicuramente Torniamo di nuovo lì dentro Perché non possiamo Essere sconfitti in questo modo Intanto ci fottiamo questi diamanti Allora Sappiamo dove dobbiamo entrare Qua stanno altri diamanti Perfetto Ok Ora Allora Datevi di goia No Ma pure questo Ci si deve mettere Porca miseria Dai Vieni qua Dove sei? Vieni qua Porca miseria Fatemi mangiare Ma la spada No Ho lasciato sopra la spadina Dai Dove sei? Mi compari? Dai Vabbè Lasciamo perdere Comunque ragazzi Datemi dei consigli Su che armi Mi posso Craftare Per il prossimo episodio Perché qua Ci rompono abbastanza Il culo Penso che mi devo rifare Anche le armature Perché qui Faccio leggermente Schifo Con questa armatura Quindi ragazzi Io vi ricordo Di mettere mi piace Iscrivervi E commentare E noi ci vediamo In un prossimo video Ciao a tutti Enterman di merda Ma pure il maiale Mi deve attaccare Ma via Ma muori Ok Uh Ciao a tutti Grazie.